Live Social Ok, allora io sono una consulente da circa 5 anni, ho lavorato per 15 anni in multinazionali e poi nel 2016 ho cominciato questa attività La supply chain è tutta quella catena di fornitura, diciamo, che parte dall'acquisto delle materie prime, passa per la produzione, quindi stoccaggio, distribuzione per arrivare quindi al cliente finale Quindi la mia attività è quella di entrare nelle aziende quando mi chiamano e cercare di portare efficienza in tutta questa catena di fornitura Quindi migliorare i processi aziendali al fine di portare una maggiore produttività e di conseguenza una riduzione dei costi Dal 2011 ho intrapreso un percorso di coaching, sono diventata coach e attualmente mi occupo anche di coaching sistemico per accompagnare le aziende in questi processi di miglioramento E molte volte, soprattutto in quello di cui sentiamo parlare, che si chiama change management, cioè il cambiamento, affrontare il cambiamento aziendale nei passaggi generazionali In questi grossi momenti di crisi e in una serie di situazioni per cui le aziende capiscono che c'è bisogno di rivedere ed esficientare tutto quello che sono Sia le risorse, chiamiamole produttive, sia le risorse personali che sono comunque e sempre la fonte di maggiore interesse per le aziende Perché tutto arriva dalle persone Beh, concordo in pieno Elena, quello che ti volevo chiedere è se hai magari una pagina social o un sito web dove ti possono contattare anche i nostri radioascoltatori per qualunque evenienza Sì, guarda, io ho una pagina Facebook Elena Marangon Consulenza Strategica E poi ho una pagina Facebook personale Elena Marangon dove comunque posto anche argomenti di lavoro E poi ho un sito internet che mi trovate a www.elenamarangon.com E mi trovate sempre Elena Marangon come in LinkedIn In quanto mi occupo anche di... sono anche speaker e quindi molte volte vengo invitata a degli eventi Come ad esempio in questo caso a parlare un po' di quello di cui mi occupo Perfetto Elena, io ti ringrazio per quello che tu ci hai raccontato Ti auguro una buona giornata e un grandissimo in bocca al lupo per tutto Grazie mille a voi, è stato un grandissimo piacere A presto e un saluto a tutti i vostri ascoltatori Grazie mille Live Social